Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata della redazione Consiglia, oggi vi consigliamo Kino Cam Deliverance, tanto è vero che stanno facendo il secondo, quindi ho voluto recuperare il primo, un capolavoro medievale, e devo dire la verità, mi ha sorpreso, e adesso vi dico il perché. Prodotto Deep Silver, sviluppo Warhouse Studios, lingua in inglese con sottotitoli in italiano, disponibili per PlayStation 4, Xbox One e PC. Ovviamente c'è la retrocompatibilità tra PlayStation 4 con PlayStation 5, Xbox One con lo Smart Deverry, per Xbox Series X e S. Su P4K si, prezzo di lancio, se siete fortunati di trovare la versione fisica la potete trovare a 40€, che praticamente vendono la versione completa di tutti i DLC, se in caso siete fortunati, altrimenti potete aspettare, che io vi do questo consiglio, di prenderlo in digitale, ma non al prezzo di 40€, al prezzo di 4€, che di solito lo mettono in sconto, anzi in un forte sconto. Genere Action RPG, parliamo della trama, il giocatore vestirà i panni di Henry, il figlio di un fabbro, che purtroppo a suo malgrado si ritroverà in una guerra violenta, dove vengono ammazzati i suoi genitori e l'unità prende la strada per la vendetta contro gli invasori che praticamente ne hanno assassinato i suoi. Stop, mi fermo qui perché sennò il rischio di fare spoiler o rovino i colpi di scena. Parliamo invece del perché ve lo consiglio. Allora, alcuni miei amici, tra virgolette iscritti, me l'hanno consigliato più volte. Già all'epoca, ovviamente, e ancora adesso, hanno continuato a dirmi, comprano Marco, se ti capita l'occasione, comprano, se in digitale o in formato fisico, comprano, 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 gamberi, 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 gamberi su, compra, compra. E purtroppo io non ebbi molta la fortuna di prenderlo all'epoca e io ovviamente anche adesso, con tutti i giochi che escono, non sono mai riuscito, fino a un giorno fa. Fino a un giorno fa che l'ho trovato dal Valerio di Nerd Gravity, l'ho trovato a un buon prezzo, ho preso la versione completa. Ma l'altra cosa che mi ha spinto a non prenderlo subito era per quanto riguarda l'abitazione medievale. C'è action RPG, solo medievale, quindi niente fantasy. Insomma, questo gioco, scordatevi i draghi, gli elfi e gli orchi. E da questo punto di vista io pensavo che era un gioco noioso. Ho detto, no, ma che pizza, non ci sono i draghi, non ci sono gli elfi, che cavolo di action RPG sarà un... boh, non mi convinceva molto, però a definitivo l'ho trovato a buon prezzo e ho detto, ma sì dai, proviamolo tutta più, magari se non mi piace, a me pazienza, lo posso vendere dopo. Invece, dirò di realtà, sono stato un gran pirla. Cavolo! Il colpo d'occhio ho fatto subito, wow! Cioè, meramente, sono stato meramente uno scemo a prenderlo al lancio. Meramente, ho iniziato il gioco, ho notato subito uno stile grafico molto curato. Ragazzi, guardate bene le abitazioni. Le abitazioni sono una roba pazzesca, sono dettagliate, varie e anche il frame rate, diciamo che è abbastanza stabile. Insomma, visibilmente vi butta in un mondo medievale, nudo, crudo, violento, esattamente com'era nella storia. E poi anche il design dei personaggi, sono vari, dettagliati, animazioni fluide. Insomma, è stato curato nei minimi dettagli. Poi ragazzi, le abitazioni foreste, città, villaggi, cioè, meramente tutto curato in una maniera maniacale. Ma sorpreso anche dal punto di vista grafico. E poi dopo, ovviamente, il gameplay. Allora, il gameplay, ci sono due cose da considerare. Sì, è vero, è un action RPG, non è fantasy. Non ci sono orche né niente, né draghi né elfi. Pensavo che, ovviamente, questo gioco qua, insomma, non mi avrebbe entusiasmato molto. Però devo dire la verità, una volta che l'ho provato con Manno, mi ha sorpreso. Cioè, nel gioco ci sono le scelte del giocatore, che ovviamente si ripecuotono sulla trama, si ripecuotono anche sulle reputazioni che ha il giocatore attraverso i personaggi. Faccio un esempio pratico. Essendo che ogni cosa che noi faremo, diremo e sceglieremo di fare, ci sono delle conseguenze. Ammettiamo, esempio stupido, ammettiamo che io entro dentro in un'abitazione, cioè praticamente una proprietà privata. Mi metto a rubare, rubo tutto quello che vedo. Il proprietario mi scova, chiama le guardie e ce l'arresto. Ovviamente la sua reputazione, quella di Harry, scenderà. E cosa succede? Succede che la gente non ci vedrà di buon occhio. Cominceremo a essere visti come una persona da evitare. E poi di più non possiamo ricevere degli aiuti, non possiamo ricevere delle ricompense. Insomma, vedremo la gente un comportamento ostile verso di noi. Io ho fatto un esempio pratico, ma giusto per farvi capire cosa può succedere nel gioco. E poi c'è il sistema di combattimento. Ecco, lo dico subito. All'inizio sarà macchinoso, legnoso e non facile da imparare subito. Ci vorranno parecchie ore per prendere la mano. Specialmente durante i combattimenti. Perché? Perché il sistema di combattimento, diciamo senza troppi giri di parole, ricorda quello di For Honor di Ubisoft. Mi spiego meglio perché non ha mai giocato a questi giochi. Quando entriamo in uno scontro, uno contro uno o contro gruppi di nemici, noi possiamo scegliere con la levetta analogica a destra i punti dove attaccare. Se attaccare di destra, in basso, in alto. Insomma, in base di noi muoviamo la levetta, il colpo di spada può arrivare da qualsiasi lato. Anche la parata, ovviamente. Stessa cosa come For Honor. C'è da tenere in conto anche di una cosa che, ovviamente, noi non possiamo pigiare il bottone, spavare il bottone per fare attacchi continuamente, perché c'è anche la stamina. E se si esaurisce la stamina, sono cacchi neri, perché il nostro personaggio sarà un facile bersaglio per i nemici. Mettere il K.O. ovviamente non sarà facile nel combattimento. Bisogna sempre parare. Diciamo che i combattimenti sono un po' tipo duelli. Sono molto lenti, bisogna stare attenti come ci si muove e ovviamente quali attacchi effettuare in maniera rapida e precisa. Poi un'altra cosa, se noi riusciamo a mettere K.O. il nemico, giustamente potremmo rubare il bottino, che possono essere soldi, armi, pezzi di armatura. E magari queste cose qua possiamo anche venderle nei negozi, guadagnando qualche moneta per prendere un equipaggiamento molto più potente, tipo, non so, una spada nuova, uno scudo nuovo, un'armatura nuova, anche i famosi grimandelli che ci sono utili per scassinare le serrature. Insomma, le cose che ci servono. Ah, poi un'altra cosa da tenere d'occhio. Noi possiamo scegliere le nostre missioni primarie e secondarie, e li possiamo anche guadagnare, oltre alle monete che ci servono per migliorare il nostro equipaggiamento, completandole possiamo ottenere i punti di esperienza che andranno ovviamente a migliorare il nostro personaggio, dove sbloccheremo nuove abilità. Faccio un esempio pratico. Se noi corriamo, usiamo un po' la stamina, un po' di più, il personaggio man mano guadagna l'esperienza sugli oggetti che ha in mano. Cioè, praticamente potrà sbloccare l'abilità, quella che mi è capitato, tipo resistenza per quanto riguarda la stamina, quindi consumerà meno stamina. La possibilità di avere un dialogo molto più persuasivo, cioè convincere le persone di quello che noi diremo e fa ciò che loro fanno quello che noi vogliamo. Insomma, va potenziato per bene. Certo, non è un classico RPG alla Skyrim, però alla fine anche questo c'ha i suoi bei pro. Anzi, mi ha sorpreso. E poi un'altra cosa da considerare, il salvataggio delle partite. Il salvataggio delle partite ci sono due maniere. O serve in automatico tra un raggiungimento di checkpoint, o ci sono le bevande del salvataggio. Le bevande del salvataggio si possono acquistare nei negozi il cambio di monete, anzi, il cambio di monete è un salasso, quelle monete lì, per quanto riguarda la bevanda del salvataggio, è un salasso. Però servono per salvare la partita manualmente. Però non potete farlo tutte le volte che volete. Dopo un torto il numero di salvataggi, esaurirete le bevande del salvataggio. Quindi dovete andare nel negozio, comprare, eccetera, eccetera. Quindi non vanno abusate. Poi, sempre di fatto di commercio, gameplay, c'è anche un'altra cosa da tenere conto. Parliamoci chiaro, nel gioco dovremo tenere conto anche il peso degli oggetti che noi trasporteremo. Qualsiasi arma pesante, leggera o media può influire sulla agilità del nostro personaggio. Certo, avere un'arma pesante vi renderà potenti, ma lenti. Un'arma leggera siete molto più veloci nelle schivate. Insomma, il gioco offre un'ampia gamba di possibilità di poter personalizzare il proprio personaggio come desideriamo noi. In base al nostro stile di combattimento, in base a quello che noi vogliamo fare. Però, giustamente, essendo un gioco che punisce gli errori, dobbiamo stare molto attenti. Perché un minimo errore, giustamente, faremo la fine, praticamente, del game over. Quindi, tenete sempre presente quello che fate, come cosa comprate, come volete personalizzare il vostro personaggio. Perché anche le armature, le armature hanno un ruolo ben specifico, ci sono delle statistiche da tenere in considerazione. Per esempio, una buona armatura può proteggervi dagli attacchi, può avere una difesa grande, ma siamo sempre lì come l'arma pesante vi renderà lenti. Dovete cercare il vostro stile di gameplay e, giustamente, in base a quello che voi scegliete, potete personalizzare e potenziare il vostro personaggio a seconda delle esperienze che lui guadagnerà utilizzando quegli oggetti. L'ultima considerazione da fare è che, devo dire la verità, sono stato un pirla a non considerare questo gioco, ha un suo da dire. Sì, ok, in definitiva io non ho sentito la mancanza degli elfi, dei draghi, degli orchi, non ho sentito questa mancanza. Il gioco vi porta a un'avventura meramente ricca di colpi di scena. Un buon action RPG che io vi consiglio. 100% medioevale, una sorpresa meramente che mi ha lasciato bocca aperta e che ovviamente attendo il seguito. Bene, raga, io vi saluto con questa nuova puntata alla rubrica la redazione consiglier. Spero che vi sia piaciuta. Lasciate un like e un commento se volete e noi ci vediamo per la prossima volta. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi la vostra opinione. Ciao a tutti dalla redazione, il link di descrizione come sempre trovate tutte le info necessarie. Ciao a tutti. Bye bye. Ciao a tutti.